ben trovati all'ascolto del nostro telegiornale andiamo a vedere prima i titoli delle notizie principali di oggi sciopero regionale sindacati oltre i 6.000 partecipanti il movimento di cateno de luca in giunta a siracusa la cronaca a san berillo a catania rapinatori in azione hanno braccato due giovani lo sport calcio serie d pari fra siracusa e ragusa il presidente del trapani calcio dichiara ho subito minacce bene questi i titoli delle notizie più importanti vi aspettiamo dopo la pubblicità per approfondire queste notizie e anche altre a dopo vuoi acquistare due paia di lenti di diverse idiotrie non comprarne due quello che ti serve sono lenti progressive che adattano la visione a diverse distanze e ottica quartarone propone solo lenti certificate di alta qualità del marchio galileo hai bisogno di proteggere la tua vista in diverse condizioni di luce abbiamo le lenti fotocromatiche transition che diventano automaticamente più scura al sole e se vuoi acquistare un paio di occhiali da sole ricorda che ottica quartarone esclusivista del marchio rocco barocco a siracusa non vuoi pagare subito nessun problema vieni a trovarci per scoprire come pagare a piccola rata al mese a tasso zero ottica quartarone ti aspetta in viale luigi cadorna 31 33 a siracusa promozione del mese una montatura in omaggio al primo cliente della giornata se completa con lenti graduate qualità professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono physiorem medical center una struttura poli diagnostica con più di dieci anni di esperienza specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia il sistema di risonanza magnetica open market 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica medio campo questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro fisio rem medical center la trovia siracusa nuova apertura fisio rem a modica al centro commerciale la fortezza ben trovati al nostro telegiornale in apertura parliamo della manifestazione che si è svolta questa mattina organizzata dai sindacati di cgl will in oltre 6.000 hanno urlato adesso basta contro il governo meloni schifani uno sciopero molto partecipato da tutta la regione siciliana sentiamo in 10.000 siracusa per gridare adesso basta al governo meloni e a quello guidato da schifani uno sciopero organizzato da cgl will che ha visto confluire partecipanti da tutta la sicilia un lungo corteo partito da piazzale marconi per fermarsi a piazza archimede luogo scelto per il comizio sindacale una manifestazione arricchita dalla presenza del segretario generale nazionale della will pierpaolo bombardieri segretario siracusa come piazza a livello regionale per una grande scelta importante quindi per questo sciopero che poi è stato in precedenza a livello nazionale sì per aggiungere alcuni temi che sono propri del mezzogiorno della sicilia e forze di questa zona quale politiche industriali quale come si affronterà la transizione climatica il caso della di priolo una serie di motivazioni che si aggiungono ai temi nazionali che riguardano i salari il fisco e le pensioni andiamo a parlare di politica locale perché il movimento fondato da cateno de luca sud e chiama nord fa ingresso nella giunta siracusana è stato formalizzato e sancito l'accordo con il vice sindaco edi bandiera sentiamo di più sud chiama nord che fa capo al parlamentare sindaco di taormina cateno de luca entra a fare parte della giunta italia l'adesione del vice sindaco edi bandiera al movimento politico che ha partecipato alle recenti amministrative sancisce un momento di sintesi e di collaborazione a siracusa a celebrare l'adesione di bandiera e della lista ho scelto siracusa al progetto di cateno de luca una cerimonia tenuta nei locali che sono stati il quartiere generale del movimento nelle scorse amministrative questa scelta affermato de luca è frutto di una sintonia con gli ideali agli obiettivi che sud chiama nord sta portando avanti è un impegno convinto così come ha sottolineato l'amico edi è mirato a lavorare al progetto per creare un'area alternativa al contesto politico attuale la formazione dei comitati è ora una delle priorità sud chiama nord ha conquistato consenzi dimostrando di essere un'alternativa concreta alle vecchie logiche politiche e partiti che dice ancora de luca oggi siamo pronti a strutturarci radicarci nel territorio per essere pronti alle prossime sfide elettorali cateno de luca ha ricordato tutti coloro che hanno sostenuto il movimento che a siracusa hanno portato avanti il progetto quando eravamo pochi dice e a chi sempre è rimasto al nostro fianco sempre operativa la guardia costiera nel weekend sono stati sanzionati due pescatori di frodo nella zona di Santa Panagia i militari della guardia costiera hanno sanzionato due pescatori dilettanti che alla baia di Santa Panagia in cui vige il divieto assoluto di pesca trattandosi di area destinata al traffico mercantile avevano gettato le reti nel relativo specchio di mare il del primo ad essere sanzionato è un pescatore ricreativo che a bordo di una tante da di porto era intento a calare una rete da posta di circa 200 metri nello specchio acqueo sottostante il pontile petrolifero in orario notturno un altro pescatore intento ad effettuare invece la pesca subacquea mediante l'utilizzo di bombole ai due pescatori di frodo fermati sono stati contestati illeciti amministrativi per un ammontare complessivo di 2000 euro oltre al sequestro del prodotto ittico e dell'attrezzatura utilizzata per la pesca illecita il pescato sequestrato si trattava di polipi poiché ancora lo stato vitale sono stati rigettati in mare e restituiti quindi al proprio habitat naturale andiamo a parlare di cronaca due giovani hanno vissuto momenti di panico mentre passeggiavano nel quartiere di San Berillo a Catania sono stati braccati da tre uomini stranieri di grossa stazza braccati e poi rapinati uno dei tre è stato arrestato sentiamo la storia dopo aver trascorso una piacevole serata nei locali di San Berillo due amici a piedi nel quartiere catanese sono stati improvvisamente braccati da tre cittadini stranieri di grossa stazza che volevano rapinarli minacciati di morte qualora avessero posto resistenza tenuti fermi con la forza i rapinatori hanno rubato ai due malcapitati i telefonini i due catanesi hanno vissuto attimi di paura e sono rimasti immobili dopo aver portato a segno il colpo i tre delinquenti si sono immediatamente dileguati per le viuzze del quartiere mentre i due giovani nonostante ancora fossero sotto shock si sono subito recati alla sede dei carabinieri consentendo così ai militari di far scattare le indagini in particolare estremamente utile è stata la dettagliata descrizione del rapinatore che aveva materialmente sottratto gli smartphone diramato l'identikit a tutte le pattuglie su strada dalla centrale operativa che ha coordinato l'articolato dispositivo di ricerca i carabinieri contemporaneamente hanno esaminato le telecamere presenti sul posto una pattuglia della compagnia di piazza dante ha poi riconosciuto in via di prima uno dei colpevoli proprio quello che si era occupato di togliere i telefonini dalla tasca delle vittime si tratta di un nord africano di 31 anni pregiudicato e senza fissa dimora l'uomo è stato immediatamente bloccato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e poi portato presso il carcere di Catania di piazza Lanza intanto le attività investigative dei carabinieri sono ancora in corso per risalire agli altri due complici proseguiamo nel tour in alcune zone di degrado di Siracusa adesso andiamo ad analizzare una zona molto centrale via Agatocle la presenza anche di materassi fa sospettare anche un dolmitorio notturno di stranieri sentiamo ecco in che condizioni si presenta via Agatocle al centro città praticamente dove passava l'ex linea ferroviaria a ridosso del passaggio a livello di Corso Gelona recentemente tutto ristrutturato però vediamo che si fa ghetto vi è un'emergenza di microcriminalità qui hanno dato a fuoco il materasso e poi soprattutto un ritrovo anche di tossicodipendenti dove praticamente si consumano alcolici si buttano a terra i tappi delle bottiglie qui si vede la testimonianza di quanto è sporco il terreno con le cicche, le lattine, le bottiglie e soprattutto la mole di immondizia che è presente qui a centro città non parliamo solo di questo angolo ma di tutta la marciapiede di via Agatocle infatti noi possiamo vedere che tutto il giardinetto è interessato a rifiuti e anche a microdiscariche qui ad esempio abbiamo un pozzetto di non so che cosa recenti lavori che comunque sono stati fatti e questo è il risultato si vede che non sono stati fatti bene e qui abbiamo anche la pavimentazione dove non si è pensato all'epoca dei fatti quando si sono piantati questi alberi che le radici avrebbero smosso la pavimentazione ora io spero ovviamente che non verranno tolte gli alberi perché sarebbe un altro smacco alla città che invece soffre di carenza di verde pubblico poi soprattutto quanto devono durare le cose che il comune acquista e installa questa è una panchina arrugginita con degli spuntoni che escono che possono fare del male è il marciapiede ridotto insomma così come è che lo vediamo continuate a inviarci le vostre segnalazioni sarà cura della redazione darvi seguito andiamo a parlare di sport parliamo della sfida di ieri tra Ragusa e Siracusa in trasferta finisce con un pareggio la partita appunto con la squadra azzurra sentiamo si ferma all'aldocampo di Ragusa la striscia di 10 vittorie consecutive per il Siracusa che non va oltre lo 0-0 la formazione di casa allenata dall'ex allenatore e giocatore azzurro Giovanni Gnoffo si presenta con un modulo abbastanza coperto 3-5-2 davanti al portiere Freddi ci sono infatti Lexman Servigi, Porcaro e Mbaie a centrocampo Bamba, Ces, Garuffi, Guerriero e Cardinale con le due punte Tuccio e Manfrellotti dall'altra parte Gaspare Cacciola non può disporre dall'inizio di domenico maggio e schiera come attaccante centrale Ciro Favetta con ai lati Alma e Forchignone i tre di centrocampo sono Zampa, Liperta e Vacca mentre davanti al portiere Lamberti si schierano Gozzo, Benassi, Sus e Scaletta è una gara molto combattuta a centrocampo con pochissime occasioni di arrete soprattutto nella prima frazione di gioco bisogna aspettare il 22esimo per vedere il primo tiro in porta del Siracusa con una bella conclusione del giovane Gozzo che di destra sfiora il palo alla destra del portiere di casa al 33esimo la bella percussione di Alma viene fermata in calcio d'angolo e dal seguente corner proprio Alma ci prova di testa con il pallone che dà l'illusione ottica del gol la prima frazione si chiude così senza emozioni la ripresa invece si apre con il Siracusa sprombattuto ci prova al 21esimo in mischia il giovane Forchignone ma superato il portiere quasi sulla linea interviene in scivolata Cess che evita una rete certa è un Siracusa a trazione anteriore quando mister Cacciola decide di mandare in campo Mimmo Maggio al posto del centrocampista Vacca un 4-2-4 che riversa tutti gli attaccanti a reto 6 nella metacampo ragusana e proprio Maggio al 23esimo alla prima occasione con un sinistro in diagonale che Freddy reattivamente riesce a rintuzzare l'unico tentativo della formazione di casa avviene al 29esimo con Manfrellotti il suo destro però debole viene parato a terra dal portiere Aretuseo Lamberti nel forcing finale degli azzurri c'è soltanto un reclamato calcio di rigore che non viene dato e trasformato in punizione su un pallonetto di Alma ma al 47esimo secondo minuto di recupero la punizione di Aliperta supera la barriera di casa ma il giovane portiere Freddy riesce a rintuzzare la conclusione del numero 8 Aretuseo deviando il pallone che era diretto all'angolino alla sua destra finisce così 0-0 con i giocatori azzurri che vanno dai tifosi che acclamano la prestazione della formazione di Gaspare Cacciola adesso naturalmente tutto il pensiero rivolto a domenica prossima al big match con il Trapani che ha battuto il San Luca 2-1 mentre la Vibonese si è fermata in casa con la C-Reale per 1-1 Dopo la cronaca della partita Ragusa-Siracusa sentiamo adesso le interviste post partita Il Siracusa non è andato oltre il pareggio a reti inviolate contro Ragusa perdendo due punti nei confronti del Trapani che continua a vincere tornando in testa solitaria in classifica nonostante ciò lo staff tecnico e il presidente Azzurri sono pienamente soddisfatti della prestazione della squadra Sì, abbiamo provato fino alla fine a vincerla ci credevamo abbiamo fatto una grandissima partita una grandissima prestazione Ragusa ha organizzato ben messo in campo ma noi non abbiamo lasciato nulla al caso siamo contenti per averci provato e ci crediamo fino in fondo e questo è l'atteggiamento giusto per arrivare in alto dove noi vogliamo assolutamente arrivare Noi siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto in campo perché ancora una volta abbiamo dimostrato di essere una squadra compatta ben messa in campo con un senso di abegnazione incredibile i tifosi ci hanno salutato come sempre quindi oggi il risultato è soddisfacente ho avuto modo di parlare con il presidente Antonini credo lunedì o martedì venerdì speriamo che il calcio sia l'unico protagonista i 90 minuti dentro il rettangolo del gioco sono gli unici protagonisti se apriano la trasferta accoglieremo i tifosi del Trapani con grande affetto con grande calore e senza grande diciamo inimicizia perché lo sport deve sempre prevalere non può che lodare i propri giocatori Giovanni Gnoffo l'allenatore del Ragusa la sua squadra è riuscita infatti a fermare il Siracusa ottenendo un punto prezioso sono felice perché i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano hanno messo in campo anche il cuore e sono da elogiare ma l'appello più importante va fatto all'intero gruppo perché da quattro mesi che lavorano i ragazzi e l'apporto di tutti gli elementi è fondamentale ho fatto un inciso stasettimana sul capitano che è da due o tre partite che non gioca però il loro impegno e la loro voglia di fare non è mai mancata da parte di nessuno e quindi è un gruppo da esaltare da elogiare per quello che sta dando durante la settimana e le risposte sono quello che stiamo raccogliendo Il presidente del Trapani Calcio ha dichiarato e raccontato di aver ricevuto minacce sentiamo perché A sette giorni dalla partita a clou tra la prima e la seconda del Girone I in programma allo Stadio De Simone cresce l'attesa ma purtroppo anche la tensione che fa brutti scherzi Il presidente del Trapani Antonini al termine della partita ieri vinta da Egranata contro il San Luca parlando del big match di domenica prossima ha denunciato di aver subito minacce e pressioni da pseudo tifosi del Siracusa Ci approcciamo intanto da minacciati perché abbiamo ricevuto delle minacce da tifosi in maniera ufficiale non è che ci spaventano più di tanto fanno anche un po' sorridere visti i personaggi che le hanno fatte Nel corso dell'intervento il presidente del Trapani ha detto che comunque sarà presente domenica allo Stadio De Simone accogliendo uno specifico invito fatto dal presidente del Siracusa Ricci Devo ringraziare il presidente del Siracusa che è una persona molto seria e professionale mi ha chiamato scusandosi per l'accaduto e anzi invitandomi di nuovo ad andare a Siracusa a vedere la partita insieme a mangiare insieme quindi molto probabilmente io andrò allo stesso nonostante le condizioni evidentemente sono borderline ma certo non possiamo permettere a quattro sfigati con minacce da barra di toglierci la possibilità di vedere la partita che poi probabilmente deciderà l'andamento del campionato o perlomeno potrebbe quindi io andrò sicuramente e mi aspetto che la Lega come noi abbiamo già richiesto invii due commissari di campo e che la partita sia controllata ai massimi livelli visto l'ambiente che ci aspetta e speriamo che ci sia un arbitro all'altezza di una partita così delicata Dopo lo sport spazio all'approfondimento oggi dedicato allo sciopero di questa mattina di CGL Will dove hanno partecipato oltre 6.000 persone vediamo quindi nell'approfondimento di oggi interviste e cronaca della giornata in 10.000 a Siracusa per gridare adesso basta al governo Meloni e a quello guidato da Schifani uno sciopero organizzato da CGL Will che ha visto confluire partecipanti da tutta la Sicilia un lungo corteo partito da Piazzale Marconi per fermarsi a Piazza Archimede luogo scelto per il comizio sindacale una manifestazione ericchita dalla presenza del segretario generale nazionale della Will Pierpaolo Bombardieri Segretario Siracusa come piazza a livello regionale per una grande scelta importante quindi per questo sciopero che poi è stato in precedenza a livello nazionale Sì per raggiungere alcuni temi che sono propri del mezzogiorno della Sicilia e forse di questa zona quale politiche industriali come si affronterà la transizione climatica il caso di Priolo una serie di motivazioni che si aggiungono ai temi nazionali che riguardano i salari il fisco e le pensioni CGL e Will insieme insomma questo significa qualcosa di importante ma la CIS non è presente quando si potrà raggiungere una vera unità sindacale? questo lo dovrebbe chiedere alla CIS noi continuiamo ad essere coerenti con quello che abbiamo fatto finora abbiamo fatto tre grandi manifestazioni unitarie non ci sono state date risposte e la conseguenza è che noi siamo in piazza a fare sciopero una donna accanto a lei Luisella Lionti il segretario della Will Sicilia sei concorde con le parole di Bombardieri? assolutamente sì anche perché comunque al di là di tutto la linea è da sempre il segretario generale nostro che comunque condivido in pieno noi è da tanto tempo che diciamo basta soprattutto in questa isola perché è sempre stata privata di risorse di investimenti non si parla di lavoro da tantissimo tempo i nostri pensionati ormai che prima supportavano le famiglie intere e oggi vivono in povertà un disagio incredibile noi chiediamo investimenti chiediamo lavoro chiediamo dignità per tutti i lavoratori cittadini pensionati la CGL ha voluto fortemente questo sciopero un po' contro la Meloni un po' contro Schifani un po' contro tutti ma l'hanno voluto il mondo del lavoro perché la presenza di migliaia e migliaia di lavoratori lavoratrici pensionate e pensionate le forti adesioni allo sciopero in queste ore nei luoghi di lavoro la partecipazione qui di oltre 10.000 persone ci dice che l'hanno voluto i lavoratori e le lavoratrici noi abbiamo raccolto questo sentimento perché i lavoratori e i lavoratrici vogliono essere protagonisti di una forte stagione di cambiamento e soprattutto lo vogliono essere in Sicilia nel mezzogiorno dove insistono le maggiori fragilità sociali e io credo che dalla Sicilia nel mezzogiorno oggi arrivi un segnale importante Segretario il diritto allo sciopero viene sancito o ci sono problemi? Ancora una volta a Siracusa abbiamo dimostrato che il diritto allo sciopero non può togliercelo nessuno l'abbiamo dimostrato la prima volta con la battaglia su Versalis e lo stiamo riconfermando abbondantemente oggi con 10.000 persone in piazza lo sciopero è un nostro diritto e non lo abbandoneremo mai Grazie Maurizio perché l'attacco personale a cui siete sottoposti è vergognoso ma questa è la vostra forza e noi staremo sempre a caldo in questa lunga battaglia sino alla vittoria Grazie Con l'approfondimento finisce qui il nostro telegiornale grazie per l'ascolto dedicato vi diamo appuntamento sempre alle nostre prossime edizioni arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti